Non dappertutto, c'era mista, però c'era ancora delle strutture tipo quella, circolavano ancora, queste non hanno mai... Questa si, questa le hanno ristrutturate, questa porta a merda, porta a merda. No, 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 no... Sì, 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 guarda, guarda, è di un contento se gli potete il minuto bucarlo, non bucargli la strezza magnetica che sennò vuoi bene. Bella, dice, guarda, sì, finisco il Vigora, Alcena, sì. Si occupa della gestione e quando si occupa di più gente ha buona volontà e quando si riesce a riferimento, a restauro delle persone. La giornata di oggi si svolge sostanzialmente con la ricettiva, la nostra ammiraglia, la centenaria 116, tra le 1911, due vetture, stati, che ospitano mostre, varie, e tre vetture in circolazione. Un'altra è questa, poi ce n'è una che è del 1949, poi ce n'è una del 1933 e un'altra più vecchia, ancora nel 1924, quella rossa, dove è? Questo è quello che più o meno succede, in più, nei giorni della giornata, un autobus, che è un'eccezione, noi ci prendiamo solo la settimana, ma quando c'è qualche pezzo, anche, allora, allora ci occupiamo anche quella direzione, questo è l'unico esempio che è un autobus, che è un autobus, che è un autobus, che è un autobus, che è un autobus.